e siamo qua livelli del circuito italiano con Marco Gaule per il Cicomania Racing che ha preso il comando davanti a Francesco Maule per il team Yamiche Creazzo vediamo all'interno, riviene per il team Bicimania Garlati Oscar Tami quindi prima posizione, facilmente al comando, Marco Gaule, leader del circuito abbiamo Francesco Maule per il team BMX Creazzo abbiamo Oscar Tami per il team Dicciaio si parla per il team Dicimania Garlati e per il Panthers Boy Padre